Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'altra maglia retro. Questa è la prima maglia dell'Arsenal per la stagione 1989-90. Vediamo un'altra maglia. La maglia è stupenda. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Mi piace tantissimo questa banda, il cannone in controluce. Spero che il video abbia potuto rendervi la bellezza della maglia. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso perché include anche le spese di spedizione e per questa maglia di questa qualità è un affare. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un coupon per ottenere uno sconto di 5 dollari. Quindi beh, non vi resta che provare il sito. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, volevo chiedervi di lasciarci un like ma soprattutto di iscrivervi al canale. A voi non costa niente e a noi ci permette di avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso a 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao! 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 Grazie.